tu sei italiano esattamente nord italia da novara io sono di ferno provincia di varese italiana di dove milano nel regno unito vivono 490 mila nostri connazionali e di questo mezzo milione più della metà ha scelto londra facendo di quella italiana la nazionalità straniera più diffusa nella capitale che diventa così in tempi di brexit la settima città italiana per numero di abitanti peccato che tra gli expat l'età media sia molto più bassa e i lavoratori più qualificati sono business developer lavoro come business support estero parlo diverse lingue anch'io business support estero faccio la showroom manager per un'azienda di interior design cervelli in fuga che al nostro paese costano ogni anno l'uno per cento del pil ma perché l'italia li perde se qua prendo un 2000 2004 in italia prendere sti un lettre mille tre cinquanta i senior designer hanno 30 anni in italia sono ancora in stage dice tutto questo